Ciao amiche, ciao amici! Allora, non ho avuto tempo di registrare il video del mercoledì, vi avevo anticipato che il gennaio sarebbe stato un mese un po' critico per me, per cui non avrei potuto garantire il video del mercoledì, però siccome non vi volevo lasciare orfani, ho 5 minuti di tempo, volevo filmare la realizzazione, diciamo, dell'ultima parte di questo look per andare a lavorare. Ho già fatto la base, ho messo il bronzer, il blush, ho usato la palette di Hourglass, volevo fare il trucco occhi perché ho riscoperto, sto riscoprendo negli ultimi giorni, tre ombretti di Kiko che secondo me sono stati incompresi o comunque non hanno avuto il giusto apprezzamento, io li sto riapprezzando tantissimo in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi. Allora, vi faccio vedere di che ombretti si tratta, due sono due ombretti magici, tra virgolette, fanno parte della collezione per il 25esimo anniversario di Kiko e sono gli Happy Bidet Bellezza, no, questo è il nome della collezione, uno è lo 05, ah, si chiamano Magnetic Eyeshadow, uno è la colorazione 05 Charmer Burgundy e uno è la colorazione 01 Magnetic Shell. Questi sono i primi due, adesso ve li faccio vedere sbocciati. Praticamente questi ombretti avevano la particolarità di essere magnetici, cioè avevano, vedete, queste strisce che voi andavate a miscelare col dito, ma poi quando mettevate il tappo e li lasciavate lì, praticamente loro si riassestano da soli, sempre facendo queste strisce, perché hanno delle bande magnetiche, non lo so, e quando voi li riaprite risultano di nuovo perfettamente, vedete, ordinati. E questa è la colorazione Burgundy, la 05, e invece questa è la 01, vi faccio vedere, che è un bronzo più freddo, adesso poi ve li faccio vedere perché li ho già sbocciati nella manina. Il terzo ombretto invece che ho ripescato, che fino a poco tempo fa si trovava ancora sul sito, è della collezione Holiday Fable, la collezione natalizia di due anni fa, se non ricordo male, lo 03 Blazing Bronze. Io l'ho riscoperto grazie a Martina Vinay, ciao Marti un bacione, perché lei lo ha comprato recentemente con i saldi di Kiko. Eh ragazze, io l'ho ripescato, l'ho riportato in vacanza con me in Sicilia, ma quanto l'ho usato e quanto l'ho riamato, io l'avevo completamente sottovalutato. Vedete, è un bronzo neutro, bellissimo, poi questi tutti e tre sono sottilissimi sugli occhi, non sono magari super riflettenti, ma per tutti i giorni sono la perfezione, perché danno luce, eleganza allo sguardo e sono sottilissimi. Io li ho sbocciati, ecco, vi faccio vedere le colorazioni. Questo è l'ombrettino della Holiday Fable, che è un bronzo, vedete, neutro. Questo è il Burgundy, quindi è leggermente più caldo, e questo è quello che andremo a usare oggi, e cioè il Magnetic Shell, no, sì, Magnetic Shell, lo 01, che è quello più freddo. Vedete, siccome oggi ho un abbigliamento piuttosto freddo, andremo a utilizzare questo qui. Questo invece è lo swatch del matitone che volevo applicare come base, che è questo, lo 05 di Kiko, i famosi matitoni che oramai conoscete a menadito, e secondo me come base per poi applicare questo è perfetto, e consente una durata maggiore, perché solo con questi stick io non riesco ad arrivare a fine giornata, anzi, dopo un'ora mi va tutto nelle pieghe, ma è colpa della mia palpebra. Però se lo setto con una polvere, mi dura, diciamo, qualche ora in più, mi fa, non dico una mezza giornata, ma due o tre ore me le regge. Poi magari nel pomeriggio mi porto l'ombrettino in borsa, essendo ombrettini singoli, sono comodi da portarsi dietro e vado un po' a ritoccare la palpebra. Quindi cominciamo subito ad applicare questo stick di Kiko come base. Allora, negli occhi ho soltanto messo sulla piega il bronzer, il bronzer di Bat McGrath, nella tonalità, credo sia Divine Bronze o Venus Bronze, una cosa del genere. Vedete, metto il matitone che già lui da solo è molto molto carino perché dà una leggera luminosità. Arrivo subito. Ecco, mi sono andata a spegnere la luce della stanza perché mi faceva ombra. Così vi faccio vedere meglio, abbasso anche un po' le luci, vi faccio vedere meglio il colore. Già il matitone da solo è bellissimo perché è elegante, ha questa satinatura molto raffinata. Lo vado un po' a distribuire sulla piega e poi non faccio più niente. Poi prendo l'ombretto Magnetic Shell, questo qua. Cioè, guardate, io vi giuro, l'ho sfiorato. È freddo questo, è proprio un bronzo tendente al canna di fucile. Però con questo abbigliamento di oggi ci sta. E vediamo cosa ne viene fuori perché io questo non l'ho usato sopra un matitone. Allora, direi che è il completamento perfetto. Gli va a dare ancora più di intensità e di luminosità, però vedete che è una combo, secondo me, azzeccatissima. Vedete anche che l'ombretto, il classico ombretto, one and done per tutti i giorni, dà una lum... Madonna ragazze, doveste vederlo di presenza, veramente è elegantissimo. È quello che io ricerco per tutti i giorni. Sapete, io, cioè, gli ombretti troppo wow li riservo per le occasioni, ma per tutti i giorni mi piace utilizzare questi ombretti che danno questa luminosità molto discreta. Ma, cioè, discreta non significa insignificante, significa elegante, perché è molto luminoso, fa effetto un po' palpebbre bagnata. Ha dei micro, micro, micro sparkle, vedete? Guardate che bello, eh? Ha dei micro, micro sparkle che poi sull'occhio non si notano, non fanno spessore. Andiamo anche... Ciao. Bellissimo. Andiamo anche dall'altra parte. Cioè, se lì avete questi ombretti, ritirateli fuori, ragazze, o andate a vedere sul sito se si trovano ancora, perché sono veramente paragonabili a quelli eye-end. Non hanno niente da invidiare, sono sottilissimi. Trovo che Kiko, negli ombretti singoli, lavori molto meglio che con le palette. Se facesse queste texture nelle palette, ragazze, sarebbe veramente top. Allora, io non vado a fare nient'altro, vado a fare semplicemente così sulla piega. Vedete? Adesso vado a completare il look. Magari lo facciamo insieme con questa matita di Wicon che è un marrone... Oh, scusatemi. E vedi un po' così, un po' casalingo, perché devo scappare al lavoro. La numero 107 è un marrone scuro freddo che io metto qui e faccio un po' di codina. Lo faccio sempre perché mi piace allungare l'occhio. Poi prendo uno sfumino qualunque, vado a sfumare la codina per non farla troppo netta. Poi sotto vado a mettere, secondo me, perfetto per questo look, il matitone di Baiterri nella taglia mini è Bronze Moon. Anche questo è un bronzo freddo. Vado a mettere anche un po' dentro. Proprio alla brutazza, così. Mi sono sporcata, ormai non fa niente. E adesso, abbondantissima mascara, uso il Maxi Mood di Kiko. Tra l'altro, ragazze, vogliamo parlare di questo mascara di Kiko? Guardate che bello. Allora, io vi dico che mi sono innamorata di questo trucco occhi. Io non so se voi potete vederlo, ma la sfumatura è particolarissima. È tipo un bronzo freddo con dentro del grigio, ma che vira verso un viola melanzana. Non ve lo so spiegare. Guardate che luce che dà agli occhi questo look, no? Mi sono innamorata ufficialmente di questi, mi sono re-innamorata di questi ombretti di Kiko. Anzi, mi sono innamorata, perché in realtà prima li avevo comprati, li avevo usati poco, ma non me li filavo. Non me li ricordavo così belli, dico la sincera verità. Labbra, completo con voi. Lip Shaper di Nabla numero 3. No, questo è il numero 3, sì, no, sì. Il mio nude marroncino preferito sul versante neutro, neutro freddo, e siccome oggi ho le labbra particolarmente secche, vado a rispolverare uno dei rossetti di Revlon, gli Shine Super Lustrous, vabbè, nella tonalità 006 Sparkling Holiday, Honey, Sparkling Honey, che è questo qua. che bello, guardate che effetto. Mi fa le labbra molto più carnose. Mmm, bellissimo questo rossetto, bellissimo, me lo rimetto subito in postazione. Poi, passata di setting spray di MAC, che sto terminando. E voilà! E sono pronta per affrontare la giornata. Fatemi sapere cosa pensate di questo trucco. Io lo amo, ragazze, lo amo. Un bacione alla prossima. Ciao! Ciao!